dall'altro lato della stanza di pedro una segheria dove cos'è però scusa cos'è che hai detto che non la usano in realtà ci ammazzano i polli ma scusa il pollo tipo gli tagliano la testa e lui continua a correre impazzito lasciando sangue per tutto il terrazzo e dormi col saccappello e quindi li a fare la bella vita e te qui in una casa abusiva ma c'è si vabbè ma questa non è la vita del coperante minca questa è la vita del barbone è la vita del colosciare e che cazzo poi però c'è una bella vista se non piove sei qui da dieci giorni il primo giorno che piove magari me lo posso immaginare sotto casa di pedro avessi lavorato con con quelli della diga contro l'enemy ti avrebbero già mitragliato la casa per cazzo